Il lorgo del fosotum della città all'arca, lalalalalalala, resto la bottega che l'almaggia presto, lalalalalalala, che bel viver, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere, Piccolita, piccolita Carissimi telespettatrici e telespettatori Vi saluto con il solito affetto Dando ad ognuno di voi il benvenuto a questo settimanale appuntamento Scusate la voce ma anche io mi raffreddo Quindi ho avuto un raffreddore Vi leggo una parte dell'Evangelo di Luca che fra alcuni giorni ascolterete anche voi In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra Anche Giuseppe dalla Galilea e dalla città di Nazareth salì in Giudea alla città di Davide chiamata Bethlehem Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa la quale era incinta Mentre si trovavano in quel luogo Si compirono per lei i giorni del parto Diede alla luce il suo figlio primogenito Lo avvolse in fasce E lo pose in una mangiatoia Perché per loro non c'era posto nell'alloggio C'erano in quella regione alcuni pastori Che per nottando all'aperto Vegliavano tutta la notte Facendo la guardia al loro greggio Un angelo del Signore Si presentò E la gloria del Signore Li avvolse di luce Essi furono presi da grande timore Ma l'angelo disse loro Non temete Mi annuncio una grande gioia Oggi nella città di Davide È nato per voi un Salvatore Che è Cristo Signore Questo per voi il segno Troverete un bambino avvolto in fasce Adagiato in una mangiatoia E subito apparve Una moltitudine di angeli Che lo dava a Dio e diceva Gloria a Dio Nel più alto dei cieli E sulla terra pace Agli uomini che egli ama Appena gli angeli si furono allontanati I pastori dicevano Andiamo fino a Betlemme Vediamo questo avvenimento Che il Signore ci ha fatto conoscere Andarono senza indugio E trovarono Maria Giuseppe E il bambino Adagiato nella mangiatoia E dopo averlo visto Riferirono a ciò che del bambino Era stato detto loro Tutti quelli che udivano si stupirono Delle cose dette loro dai pastori Maria da parte sua custodiva tutte queste cose Meditandole nel suo cuore Ed eccoci ancora una volta A rivivere nella memoria personale Questa grande festa del Natale Io per primo Oggi Prima di venire da voi Esaminando me stesso Comincio col dire Che questo Natale E' l'ottantesimo Che io vivo Nella mia vita Perché essendo nato Il 3 novembre 1927 27 87 anni fa Il giorno di Natale Avevo appena 49 giorni di vita Per cui credo di non aver potuto Data l'età Pochi mesi Poco più di un mese Partecipare alla gioia Che è stata tutta Dei miei genitori Non solo per il Natale Che si celebrava Ma perché nella mia casa C'era stato il Natale Con la mia nascita Poi Anche gli anni seguenti Sarà stato un po' più o meno La stessa cosa A meno che fin dai primi anni Io non sia stato Come ultimo della casa E più piccolo della casa Prescelto Da portare il bambino Nella grotta Del presepio di casa Poi Poi Nel 1932 A Natale Ero già orfano di papà Perché a giugno del 1932 Mio padre È morto A 37 anni Con un'ulcera gastrica Oggi un'ulcera allo stomaco È una cosa insignificante Allora si poteva anche morire di questo E io sono convinto Ripensandoci poi Lui che non aveva mai sofferto di stomaco Quell'anno Era dal 1929 in poi Sono stati anni di miseria Di preoccupazione Di fallimenti Come lo sono questi che stiamo vivendo Perché questa terra d'America Che per alcuni è il paradiso terrestre Ma È un po' la fonte dei guai del mondo Nel 1929 è fallito Sono fallite le banche È fallito un po' tutto Questo loro vivere Disordinato Senza senso E purtroppo Questi loro fallimenti Si ripercuotono Anche nel nostro ambiente Come è successo anche adesso Perché dico purtroppo Il dollaro ancora costituisce La moneta principale di scambio Per cui quando rotola da quella parte Rotola per tutto ciò Che lo circonda E porta scompiglio Fallimenti Sofferenza Dolore E mio padre È morto di questo dolore Poi Sono passati vari anni Non è che abbia un ricordo particolare Di tutti questi Natali Ricordo gli anni I Natali trascorsi nel seminario di Roma A Firenze Nell'esperienza pedagogica che ho voluto fare Nel seminario di Reggio Dove Il mio vescovo Monsignor Raimondi Mi ha ricamato Perché Aveva paura Che io Studiando fuori Non volessi più Tornare a Crotona E allora Ha voluto Che completassi Gli studi teologici A Reggio Calabria Di quegli anni Ricordo lo svolgersi Delle liturgie La notte di Natale Trascorsa sempre Nella sorennità Che merita questa festa Ma in particolare Mi è rimasta impresso La notte di Natale Del 1951 E vi dico subito il perché Dopo aver giocato a Tombola In seminario Si giocava a Tombola Le serate di Natale E in modo particolare La notte di Natale Dopo le undici E un quarto Ognuno è andato A vestirsi Con la cotta Per partecipare Alla messa solenne Io invece Che ero il cerimoniere Quindi avevo bisogno Solo di indossare Una cotta Sono uscito Nel giardino Noi eravamo Su una collina Seminario Pontificio Situato Su questa collina E quindi Mi sono trovato Davanti Uno spettacolo Meraviglioso Perché Dall'alto di lì Si dominava Il mare E di fronte C'era la città Di Messina Quindi Un luccichio Di stelle Che quella notte Sembravano Essersi Moltiplicate Soprattutto Nell'oscurità Poi tutte queste luci Nella città Che era Ai piedi Della collina E tutte quelle Che ardevano Sul lungomare Di Messina E anche Di tutta la costa Uscendo da Messina Uno spettacolo Meraviglioso In alto Un pochino Più indietro Si vedeva L'Etna Che era In un tempo Di eruzione Anche se era Una eruzione Calma Faceva vedere Solo queste Fiammelle Di fuoco Che scendevano Tranquillamente Lungo il dorso Del monte E un gran silenzio Una grande pace E ricordo Che ho avuto Un senso Di grande nostalgia Perché Era l'ultimo anno Di seminario Era dicembre Del 51 A luglio Del 52 Avrei ricevuto L'ordinazione Sacerdotale Quindi Ero alla vigilia Del sacerdozio E quella notte Di Natale Mi è rimasta Molto impressa Per questo Perché in quella pace In quel silenzio In quello sfolgurio Di luci Io ho rivisto Un po' tutto Il tratto Della mia vita Fino a quel giorno E ho pensato L'anno 21 A Natale Sarò già sacerdote Celebrerò Il Natale Celebrando La mia messa Sarò E come ognuno Che nel corso Degli studi Pensa un po' Alla laurea Alla sistemazione Un po' Ciò che dovrà fare Nella vita Anch'io ho pensato Alla vita Che mi aspettava Il sacerdotio La nascita di Gesù L'anniversario Della nascita di Gesù Era il richiamo Di quello che avrebbe dovuto Essere la mia vita Essere un altro Cristo Pensato Perché noi ogni giorno Quando celebriamo L'Eucaristia Diciamo delle frasi Che ci identificano Con Gesù Cristo Perché l'avrete notato L'avrete sentito Anche voi Almeno che non siete Sempre distratti Il che non lo credo Il sacerdote È arrivato A un certo punto Consacra Il pane E il vino Trasformando Queste Queste cose Naturali Nel corpo E nel sangue Del Cristo E quello che è interessante E sono le parole Che dice Questo è il mio corpo Questo È il mio sangue E sapete benissimo Che non è Né il mio corpo Né il mio sangue Queste parole Sono state dette Da Gesù Nell'ultima cena Quando Per la prima volta Insieme ai suoi apostoli Ha celebrato La prima messa E ha consacrato Per la prima volta Quel corpo E quel sangue Che stava Per donare Sulla croce Per cui Se io in quel momento Dico Questo è il mio corpo Questo è il mio sangue E non è Né il mio corpo Né il mio sangue Vuol dire Che ripetendo Le parole di Cristo Io mi immedesimo In Lui Io divento Un altro Lui Per cui posso benissimo Ripetere queste parole Attribuendole a me stesso Perché non sono più Giuseppe Covelli Il sacerdote Giuseppe Covelli Della diocesi di Crotone Ma sono Un alter Christus Un altro Cristo E allora voi capite Che se poco poco Noi ci pensassimo Un po' di più Noi tutti i preti Io non so Come celebro io L'Eucaristia Come la celebro Gli altri miei confratelli Però io penso Che se Noi avessimo Un pensiero Più profondo Quando celebriamo Dovremmo essere In un certo qual modo Come atterrite Io in questo momento Sono un altro Cristo Io non vivo più Non sono più io Che vivo Ma è Cristo Che vive in me Diceva San Paolo Nella sua letta Ed era Non dico orgoglioso Di queste parole Ma era Sensibile A questo pensiero Non vivo più io Non sono più io È Cristo Che vive in me E questa trasformazione Che avviene In ogni celebrazione Dell'Eucaristia Per uno Che sta attento Che sente Un po' Quello che dice E che non parla Vanvera Senza pensare Quello che dice Dovrebbe essere Qualcosa Che ci atterrisce Io In questo momento Sono Gesù Cristo Con quello Che deriva Da questo pensiero Se sono Gesù Cristo Non posso essere più Un uomo Qualsiasi Con i suoi difetti Con le sue manchevolezze Con i suoi peccati Con le sue leggerezze Se sono Gesù Cristo Non solo a parola Ma soprattutto Nella sostanza Dei fatti Tutta la mia vita Dovrebbe essere trasformata Per cui Dopo 61 anni Di sacerdozio Quando mi accorgo Di non essere Quello che avrei dovuto E che dovrei essere Tutto ora Mi confesso Che mi prendo Un po' di sconforto Non sono Colui Che dovrei essere Non sono Al mio posto Non sono Quello A cui Gesù Cristo Mi ha chiamato Perché lui Mi ha voluto Lui mi ha chiamato Però Dicendomi Che cosa Significava Questo essere Sacerdote Per cui La domanda Che io faccio Spesso A me stesso Ma io Vivo la mia vocazione Di prete La sento Dopo 61 anni E' più forte Questa chiamata E' più debole Non ci penso Per niente Come lo vivo Questa Questa Sacerdote Tutti Tutti gli altri Che mi guardano Che mi osservano Che mi ascoltano Che partecipano Alle mie celebrazioni Cosa pensano In queste celebrazioni Sentono Sentono Che io Sento Il mistero Che mi circondo Lo avvertono Oppure distratto Io Distratti loro Perché Se si coglie La distrazione E' facile Che tutti Diventiamo distratti Perché Altro è Avere il senso Della concretezza Altro è non averlo E adesso Ecco qui Siamo nel Nel 2013 Sta per scoccare La fine dell'anno Che ci porterà Nel 2014 Io sono Entrato Nell'ottantesimo Anno di età Sono entrato Nel Sessantunesimo Anno di Sacerdote E mi presento Nella notte di Natale A quel Gesù Che mi ha chiamato Per Sentire Che cosa Da dire Avete sentito Nel Vangelo In Natale Una festa Di luce Di gioia Di pace Di serenità C'è una gran luce Lì Sulla grotta Di Bettenemme C'è una gran luce Che avvolge Gli angeli Che annunziano Ai pastori La presenza Di Gesù Che li invitano Ad andare A Bettenemme Perché a Bettenemme E perché Ogni tanto Ai nostri governanti Succedeva una volta E succede ancora oggi Vengono alcuni pruriti L'imperatore Augusto Voleva sapere Quanti sudditi Lui avesse Nel grande Impero Romano Ecco Dopo anni di guerra Di conquiste Di assoggettamenti Di altri popoli All'impero di Roma Lui aveva il desiderio Di sapere Ma quanti sudditi ho io Quante Quanta gente Mi vede come l'imperatore Ubbidisce le mie leggi Mi venerano come una divinità Perché c'era anche questo L'imperatore Diventando imperatore E come se diventasse Un altro dio dei pagani E questi poveri Disgraziati Di Giuseppe e Maria Disgraziati Perché erano poveracci Si sono messi Si sono dovuti mettere in cammino Andare dalla Galilea Fino alla Giudea Che sono parecchie decine Di chilometri Perché il censimento Si faceva andando Nella città Di origine Non personale Ma familiare Giuseppe era discendente Di Davide Davide veniva da Betlemme Betlemme Casa del pane Questa è la parola Che significa Betlemme Casa del pane Quindi veniva dal luogo Dove Questo pane Veniva fatto Veniva distribuito Quel pane Sotto l'equispecie Gesù Prenderà Consistenza E si farà cibo Per ognuno di noi C'è tutta una trama Misteriosa Perché Questo luogo Diventerà La sorgente Della nostra salvezza E questi due poverini Si trovano In un grande imbarazzo Perché arrivati a Betlemme Fatto tutto ciò Che dovevano fare Per il censimento La Madonna Si accorge Che è arrivato Il tempo del parto E allora cercano Nel Vangelo Abbiamo letto Non c'era Alcun posto Per loro Nell'albergo Guardate però Che di alberghi A Betlemme Ce n'era nemmeno uno C'era il cosiddetto Carovan Serraglio Che era un grande portico Al centro del quale C'era un grande spiazzo Allora tutti quelli Che viaggiavano Nello spiazzo all'aperto Mettevano gli animali Le mucche Queste si erano portate A presso mucche Per il mercato La cavalcatura Asino cavallo Con cui erano venuti E nel portico circostante Si sistemavano i pellegrini I viaggiatori Allora capite bene Assistere come a una rappresentazione teatrale Perché oltretutto Canti di angeli Canti di angeli Suoni meravigliosi Nessuno si chiede Che è successo Anche gli apostoli Spinti dagli angeli Dicono andiamo a vedere Cosa è successo Mettevano Andiamo a vedere E arrivati lì Ecco la fede Trovano Un bambino In una mangiatoia In una mangiatoia Sapete cos'è la mangiatoia E' quel recipiente Pieno di paglia In cui gli animali Vanno a mangiare Quel fieno Che viene loro offerto Dal padrone Io penso Che la Madonna Lì a Nazareth Aveva già preparato Un po' di fasce Un materassino Sia pure poverissimo Per questo bambino Che doveva nascere Però Per partire in fretta Non mi ha portato tutto appresso Dove la metteva sta roba Quindi sono partiti così E il parto Gli ha sorpresi Forse pensavano Di poter ritornare indietro E invece La mano di Dio Che accompagna tutti noi Li ha indirizzati Verso questo luogo E lì E' nato Il salvatore del mondo Mettevano Ecco qui noi In questa ricorrenza In questa Dico bene Ricorrenza del Natale E' come se Per ognuno di noi Apparissero degli angeli E ci dicessero Ecco qui Vi do una buona notizia E' nato un bambino Che sarà il salvatore del mondo Gioite Rallegratevi Fate festa Andate Lo troverete Ed io Che in questi giorni E non solo in questi giorni Ma un po' Per tanti giorni Per tanti mesi Adesso cominciano ad essere degli anni Che ascolto la sofferenza Non solo degli italiani Ma del mondo intero Io penso che lo leggiate il giornale Lo so che molti di voi leggono solo I giornali sportivi Per vedere cosa ha fatto la Juventus L'Inter E sono cose del tutto inutili E sono cose del tutto inutili Perché quando io penso Che c'è gente che muore di fame E uno per tirare quattro calci E uno per tirare quattro calci A un pezzo di cuoio Che è un pallone Che guadagna miliardi all'anno Non è che mi piaccia tanto Ditemi quello che volete Condannatemi Criticatemi Ma per me E' un'assurdità E uno solo perché S'attivare appedate A un pezzo di cuoio Debba guadagnare miliardi Quando c'è gente Che giorno per giorno Lavora e lavora duramente Per otto, nove, dieci ore Al giorno Per non guadagnare niente O quasi E non mi sembra Che sia una cosa bella Come non posso approvare Questa Corte Costituzionale La quale si oppone Che siano riviste alcune strutture Una Corte Costituzionale Che dice che Non è costituzionale Che noi Adesso si voglia ridurre Quello che prende Quasi duemila euro Al giorno E' un altro che prende Quattrocento euro al mese Per loro è costituzionale questo Perché sapevano che se si Toccavano gli stipendi degli altri Si toccavano anche il loro E che Corte Costituzionale Difende la loro Costituzione Non quella Costituzione Che dovrebbe Dire a tutti Che tutti siamo uguali Davanti alla legge Davanti allo Stato Tutti uguali Non che tutti dobbiamo guadagnare 10.000 euro al mese 10.000 euro al mese Tutti quanti Ma che il massimo Il tetto massimo Dovrebbe essere 10.000 Per tutti questi Grandi Che si credono grandi Quello si Perché non è giusto Che uno Dello stesso luogo Della stessa città Della stessa nazione Viva In modo Veramente Da ricco e pulone E invece Gli altri Dobbano fare La fine Non è giusto Non è costituzionale Per cui Chi non difende Questo principio Non è degno Di fare parte Della Corte Costituzionale Dico io Dal fatto Che abbiano Rigettato Queste proposte Di legge Dice che Loro non sono degni Di guardare Alla Costituzione E vanno Allontanati Sono gente Pericolosa Che difende Dei diritti Abusivi I cittadini Dello Stato Sono tutti Uguali davanti Dello Stato Non ci può essere Una sperequazione Così alta Tra il morire Di fame E sguazzare Nell'oro Non ci può essere E chi difende In nome di una Costituzione Queste cose Non è degno Di fare Il costituzionalismo Vanno Pericolo pubblico Pericolo pubblico Siccome Loro godono Di queste cose Che poi Quando finiscono Questi anni di servizio Continuano Per tutta la vita Ad avere Questi trattamenti Di riguardo L'auto blu La scorta Tutto a carico nostro E non è giusto Per cui io penso Tu hai voluto Tu hai voluto Venire Saggiando la solitudine L'abbandono La segregazione La miseria Tu hai voluto Mostrare a noi Il distacco Che dobbiamo avere Dalle cose Non perché Alcune cose Non siano essenziali Ma tutte le dobbiamo avere Se no tu non sei contento Non può il padre Essere contento Che alcuni figli Sguazzino Nella ricchezza E altri muoiono Di fame Non può essere E allora Miei cari Che mi seguite Che mi ascoltate Che mi dite sempre Che dico Tante cose giuste Facciamo una preghiera Ma una preghiera Insistente Forte Che salga Al cuore di Dio Perché faccia finire Questo momento tragico Che stiamo attraversando Che ognuno Al più presto Possa Vedere E risentire La gioia Del Natale E non che In questi giorni Che dovrebbero essere Di gioia Di pace Di serenità Per tutti Ci sia un pianto Più insistente Date le Differenze Così profonde Che ci sono Fra noi E allora Buon Natale Buon Natale A voi Quanti vi ascoltate Alle vostre famiglie A quanti portate Nel cuore Alle vostre sofferenze Alle vostre miserie Alle vostre malattie Un buon Natale Per tutti Una preghiera Per tutti Un augurio Per tutti Col desiderio Che presto Possiamo essere Invitati Ancora una volta A vedere Nella grotta Di Bettrem L'adempimento Delle nostre speranze E la fine Di tante Sefferenze Per tanti I nostri fratelli E sorelle Buon Natale E grazie Per il vostro ascolto Arrivederci Arrivederci Alla prossima trasmission L'orgo Del vostro ascolto Della città All'arco La 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 Resta botiga Che l'almeggia Presto La 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 Ah che bel vino Che bel piacere Che bel piacere Per un barbiere Di collita Di collita Già Già Della